Siamo a compagnia di Massimo Lovari qui ai bordi del campo della Castelnovese. Si sono appena spenti gli entusiasmi della preparazione, vi ho visto ben disinvolti, soprattutto carichi per questo impegno che vi vedrà protagonisti a maggio. Sì, si è appena finito gli allenamenti, come ha detto lei, siamo carichi per questa playoff, questa lotteria, si guarderà di fare il meglio possibile per cercare di dare il più avanti possibile. Si gioca un passo alla volta, prima si pensa alla Sestese e poi eventualmente si preparerà la partita con il San Giovanni. Comunque resta un campionato, a prescindere da come andranno i playoff, resta un gran bel campionato questo della Castelnovese. Sì, sì, un campionato positivo direi alla fine, siamo arrivati nel terzo posto, le prime tre non è facile vincere, vince una sola, quindi quando arrivi nelle prime tre posizioni vuol dire che hai fatto bene, si è lavorato bene e i risultati sono visti alla fine. Per un piccolo paese, per un piccolo borghettino in questa maniera, mantenere una squadra a questi livelli è davvero un miracolo. Sì, sì, è una grande soddisfazione, penso, per tutto il paese, penso, motivo d'orgoglio anche. Quale squadra temete maggiormente in questi playoff? Ma sai, la San Giovannese come nomi è più blasonata rispetto a Sestese, però la Sestese è una squadra molto frizzante, con ottimi giocatori, tutti rapidi e tecnicamente dotati, ti possono, nella partita secca, insomma, impensierire. Quindi, avanti si pensa alla Sestese, come vedete, e poi eventualmente si preparerà la finale.